Siamo in contrada a Chiusella di Bussi, vicino alla Turbogas. Questo è il capping di velto che abbiamo segnalato al Ministero, al Comune di Bussi, alla Montedison, alla Solvei e ai carabinieri forestali il 25 di novembre. Abbiamo segnalato questo capping, cioè questa misura di sicurezza e di emergenza, che attualmente non sta facendo assolutamente il suo dovere, le sue funzioni, e poi una situazione che si è verificata invece nella discarica 2A e 2B, che è la parte più grande di discarica di questo sito di interesse nazionale, che coinvolge Bussi e altri dieci comuni. Lì c'è una stazione di pompaggio che non funziona più, l'acqua non viene più stoccata, non viene più controllata. Queste situazioni sono state oggetto di una nostra lettera fatta il 25 di novembre e dopo l'accertamento fatto dalla Polizia Provinciale di Pescara e l'attività del Ministero, ieri Edison ha scritto che pur non facendo acquiescenza a questa situazione, pur non riconoscendosi soggetto inquinatore, a differenza di quello che dice l'ordinanza del Presidente della provincia Antonio Di Marco, ottempererà. Tant'è vero che ha chiesto che già oggi stesso dal Ministero le specifiche tecniche di questo capping e dell'appompaggio che attualmente non funziona su. Questo è molto importante perché le misure di sicurezza di emergenza che vengono date senza autorizzazione sono quelle misure che consentono di prevenire l'inquinamento. Dal 2007 ad oggi sono trascorsi 12 anni. Alcune di queste misure di emergenza, come il cosiddetto barrieramento idraulico, questa stazione di pompaggio che dicevamo prima, sulla 2A e la 2B, sono del tutto inefficienti, a mio avviso. Questo invece era un capping leggero che poteva funzionare e che serviva per evitare che l'acqua piovana potesse raggiungere i rifiuti e quindi la falda, il fiume e il mare attualmente non funziona assolutamente. È per questo che siamo oggi qui come Partito Democratico, perché vogliamo rivendicare il ruolo propositivo che abbiamo avuto anche dall'opposizione, ma siamo qui soprattutto perché vogliamo sollecitare l'orgoglio degli abruzzesi a rimpossessarsi della qualità del proprio ambiente.